Il Ministero degli Esteri ha chiesto alle autorità tunisine di fare piena luce al più presto sull'omicidio del 55enne pugliese Angelo Cassano, trovato morto nella sua abitazione di Amamet nelle prime ore del 2 agosto. L'uomo nativo di Bari, ma poi trasferitosi a Polignano a mare da qualche tempo, residente in Tunisia, è stato ucciso con diverse coltellate e secondo quanto riferito da un quotidiano tunisino, ne sarebbe stata tagliata anche la gola. Modalità ferocissime che hanno fatto pensare ad un accanimento legato forse alle inclinazioni sessuali della vittima, più che ad una rapina finita tragicamente. Il delitto è stato confessato da un giovane del posto, fermato poco dopo l'omicidio, ma non sono ancora chiari i moventi. Alcuni familiari della vittima sono da qualche giorno in Tunisia per il riconoscimento del cadavere e perseguire le operazioni di rimpatrio della Salma. La Farnesina ha assicurato la massima collaborazione.